Su iniziativa dell'Associazione Culturale Arche al Museo Regionale di Adrano si è svolto un convegno sul tema l'arte della ceroplastica del bambin Gesù. Hanno moderato l'incontro la professoressa Giussi Marchese e l'architetto Carmelo Salanito. Dopo i saluti istituzionali dell'assessore Pietro Sciacca, a nome dell'amministrazione comunale, hanno relazionato Don Pietro Strano, l'architetto Nicola Neri e il direttore del Parco archeologico di Catania e Valle dell'Aci. Giuseppe D'Urso. Professoressa Giussi Marchese, oltre ad essere consigliere comunale ad Adrano, è presidente dell'Associazione Arche, che presenta oggi la sua prima iniziativa. Sì, assolutamente. Abbiamo creato questa associazione che si compone anche di un circolar femminile al suo interno e quindi abbiamo deciso di creare in occasione del Santo Natale un evento che fosse aderente al nostro territorio. Non a caso abbiamo scelto l'arte della geroplastica del Bambin Gesù, proprio perché si tratta di una tradizione tipica adranita e quindi di una peculiarità territoriale che vogliamo appunto far risaltare e soprattutto divulgare tra i giovani che magari non conoscono questi antichi mestieri. Vogliamo appunto far risaltare quello che è l'emblema del Santo Natale, appunto il Bambin Gesù, e congigliare questo aspetto. Da un lato l'arte, la cultura, gli antichi mestieri, dall'altro lato invece l'aspetto emblematico cristiano dal momento che ci appropinghiamo al Natale e quindi alla nascita di Gesù Bambino. Ospiteremo l'architetto Nicola Neri, che appunto è già soprintendente per i beni culturali e ambientali di Enna. Ci sarà anche il direttore del Parco archeologico di Catania e della Valle dell'Aci, che è il dottore Giuseppe D'Urso, e ci sarà anche il nostro vicario foraneo, Don Pietro Strano, che è il parroco di Sant'Agostino, appunto, proprio per cercare di trattare questo argomento secondo le tre diverse prospettive culturali, artistiche, tecniche, ma anche liturgiche e religiose. Don Pietro Strano, l'importanza della figura di Gesù Bambino nelle nostre tradizioni? Ma questa figura semplicemente richiama la semplicità e alla povertà, alla speranza, perché un bambino quando nasce dà sempre speranza per il futuro. Nella nostra cultura, nelle nostre case, in questo tempo soprattutto, questa immagine ci richiama a un futuro, a una speranza. E quindi anche Gesù Bambino, nelle case che troviamo, dà sempre questa gioia, soprattutto sapere che c'è un domani, e questo per noi è fondamentale, per noi cristiani. Soprattutto per la figura femminile, perché è importante la figura di Gesù Bambino? Esatto, appunto, nella tradizione anche veniva regalato alle famiglie, alle giovani coppie, per la fertilità e quindi come un augurio di propiziatorio, anche per avere quindi una prole in futuro. Architetto Nicola Neri, il Museo di Adrano ospita collezioni davvero molto prestigiose sui bambinelli. Certamente, fa parte della collezione dei beni etno-antropologici, che è qui proprio al Museo, al Terzo Piano. Noi, come sovrintendenza, abbiamo curato nel 2005 un progetto che riguarda il restauro dei bambinelli, che si trovavano proprio all'interno del Museo di Adrano, ed è stato un intervento particolarmente significativo, perché ha ripreso non solo quelli che erano i bambinelli, diciamo, tipici e normali della nostra tradizione. Noi abbiamo avuto una tradizione di bambinellai, la famiglia Toscana è stata una dei rappresentanti, che purtroppo non ha più, diciamo, continuato nella sua tradizione e quindi si è persa. Sarebbe bello recuperare questi aspetti, perché l'arte del bambinellaio, l'arte della ceroplastica, la possibilità di modellare la cera ai fini di realizzare dei bambinelli, è stata sempre una delle prerogative della città di Adrano. Noi abbiamo curato il restauro, oggi faremo, diciamo, un riassunto dei tipi particolari di interventi che sono stati eseguiti, perché presenterò tre bambinelli con tre tipi e sistemi di restauro differenti, compreso uno che, a vederlo, inizialmente avevano detto, no, questo lo buttiamo, perché proprio sembrava completamente distrutto, ma effettivamente, grazie alla cura dell'allora restauratrice Biuso, la signora Antonella Biuso, eccellente restauratrice di ceroplastica, rarissima nel territorio, è riuscita a recuperarlo. Presenteremo anche questo intervento. Finale dell'incontro all'insegna della tradizione con musica natalizia. adas inizialmente Grazie.